Salve a tutti ragazzi, benvenuti nella casa di calcio. Allora, spero che in questo video non ci siano problemi per quanto riguarda l'audio, visto che il primo video aveva un po' di problemi di audio. Allora, oggi vorrei parlarvi di una notizia uscita ieri riguardo il mercato dell'Inter, riguardo lo scambio tra Diterzini, tra Dalbert e Biraghi. Quindi, D'Albert alla Fiorentina e Biraghi all'Inter. Questa notizia è cambiata oggi, in quanto non si lavorerebbe più su uno scambio tra i due, ma D'Albert potrebbe rientrare in Francia e con i soldi della cessione D'Albert l'Inter poi in Marotta andrebbe a Firenze diretto per acquistare Biraghi. Allora, io leggendo anche un po' sui social ho visto un po' che certi tifosi non sarebbero tanto convinti di questa operazione, in quanto alcuni dicono cediamo D'Albert per acquistare D'Albert italiano. Allora, permettendo che Biraghi per me è molto più forte di D'Albert, ed è un giocatore che si sta mettendo in luce negli ultimi due anni. Allora, titolare nazionale, Mancini lo sta facendo anche giocare titolare nazionale, non era un cattivo terzino, però secondo me l'Inter ha sbagliato, perché ha sbagliato considerando che fino a dieci giorni fa era libero un terzino come Dani Alves, che poteva essere acquistato a zero, a zero svincolato, quindi con tutta, diciamo, Dani Alves di certo non è un terzino giovane, ma per me un'altra stagione all'Inter a alti livelli con Conte, secondo me se la poteva fare benissimamente, e quindi secondo me accettava anche, dopo Siviglia, Barcellona, Juventus, Inter, poi l'Inter con Conte quest'anno sicuramente ha un appeal maggiore, quindi secondo me ha sbagliato a non puntare, a non acquistare a zero Dani Alves, e quindi secondo me, semmai questa trattativa che porta Dalbert in Francia, con i soldi ricavati nella successione, quindi 15 milioni di euro, ricordando che Dalbert ha sempre fatto schifo all'Inter, venuto con l'ombra di Maicon, il nuovo Maicon, ma neanche un'unghia incarnita di Maicon, con i soldi della successione, io secondo me si dovrebbe puntare su Marcos Alonso, Marcos Alonso perché? Perché è un terzino incredibile, nel 3-5, prima di tutto lo conosce Conte e l'ha voluto fortissimamente dalla Fiorentina al Chelsea, ha vinto con Conte, e chi guardava il Chelsea di Conte due stagioni fa sa benissimo che Marcos Alonso è un grandissimo terzino, una grandissima ala e che secondo me potrebbe essere preso dal Chelsea per un 25-30 milioni, ma almeno dopo Lazaro c'è Asamoah e poi quindi Marcos Alonso sarebbe un grandissimo acquisto, considerando che Conte è intenzionato a non schierare D'Ambrosio nei 5 di centrocampo, ma meglio così, finalmente qualcuno l'ha capito che D'Ambrosio con tutta l'anima e la volontà che ci mette da 5-6 anni all'Inter comunque non è un terzino D'Ambrosio, si è visto che fa il terzino non facendo il terzino, molto 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 meglio nei 3 di difesa, molto meglio, anche se sicuramente non giocherà, visto che ci sono Godin, Skriniar e De Vrij. Quindi secondo me la mia idea è puntare semmai dovesse andare via D'Ambrosio, speriamo, perché non mi sembra per niente un buon giocatore, anche perché sinceramente, parliamoci chiaramente, è un giocatore mediocre, con una fase difensiva da incubo, un'offensiva altrettanto da incubo, inguardabile, quindi Birachi va bene, ma secondo me aggiungendo 10 milioni si può rendere Marcos Alonso che è un grandissimo terzino nel 3-5-2 di Conte, sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. Quindi niente, questo video si conclude così, se avete delle domande da farmi fatemi nei commenti e ci vediamo, ciao!